Si vince, c'è solo il vino. E' uscito il bianco. Eh, che posso farci? Se tutti volete andare avanti, io vado avanti. E non consideriamo questo. No, è una regola, chiede. Però non so come la penserà chi uscirà adesso. Ma teniamoci alla regola. Allora voglio una nonna, dai. Una nonna che prende il biglietto. Sì. Sì, dai, una nonna. Eh, no, una nonna, una nonna. Chi è? Una nonna. Andonetta, Angelina, Andonetta, la nostra mascolta. Venite, non è vergognata, venite. Prima di, un attimo, prima di, ecco, io ringrazio tutti quanti voi per la partecipazione. Non è così. Grazie per le feste. Eh, ci dividiamo domenica. Io, riprendiamo la scuola tutti quanti, i bambini e i meno bambini. Riprendiamo la scuola. Ecco, voglio chiedere scusa, perdono se sono stato a volte un po' nervoso in questi giorni. Ma tante cose da pensare, forse mi hanno portato a perdere un po' così la pazienza. Ma è un po' come i genitori che quando hanno tanti pensieri sono nervosi e rispondono male, ma non lo vogliono. Allora, signora, vediamo, a chi lo fa vincere, da uno solo. No, facciamo questo, riputate lì dentro, uno solo. No, sempre uno, ne avete preso due. Mettete uno dentro, ok. Allora, non penso che si dica spaventare. No. No, basta un po' a freddo, lo vedete. Questo primo vince, quindi vince. Gesù un bambino, non mi posso dare nessun indizio perché io non lo conosco. A Roma. Penso si chiami Michael, c'è scritto Michael. Michael. Ciocca. Ciocca. Ciccico. Riccio ciocca. Ciocca. Ciocca, Riccio. Michael, Michael, penso ciocca. Michael. Chi è? Ah no, ma ciocca il cognome. Chi l'ha fatto a Riccio? Ciocca il cognome. E vince questo signore. Michael Ciocca. Michael. 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 Eh, bravamente. Ciocca come vista. Ciocca come valutazione. Continuiamo. Sì. Allora questo qui ha vinto. Grazie a tutti e buona sera. No, no, continuiamo. Continuiamo? Possiamo continuare? Ormai è andato via. Vediamo chi sarebbe uscito là. Chi sarebbe uscito a prendere la paglia. Grazie e buona sera da tutti. No, c'è il bacio. Non c'è buona sera. Allora, perciò ho detto continuiamo. Sono stato. Allora. No, ma c'è il bacio. Non c'è il bacio. Non c'è il bacio. Non c'è il bacio. Grazie a tutti.